Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio che si intitola Tra Oriente e Occidente, dotti bizantini e studenti greci nel rinascimento padovano a cura di Niccolò Zorzi e Ciro Giacomelli, pubblicato da pochissimo da Padova University Press ed è anche un testo che volendo si può scaricare gratuitamente in formato pdf collegandosi al sito di Padova University Press. Ma io come mia abitudine non rubo altro tempo al nostro ospite che è Niccolò Zorzi al quale lascio immediatamente la parola. Prego professore, a lei. Buongiorno, grazie di questo invito che mi fa molto piacere perché mi permette di parlare di una mostra e del suo catalogo a cui tengo molto perché abbiamo lavorato a questo progetto nel corso dell'ultimo anno con una certa intensità. Si tratta di un catalogo di mostra e la mostra è purtroppo chiusa da oggi. È l'ultimo giorno di apertura ma resta il catalogo. Il titolo, come diceva ora il nostro padrone di casa, è Dotti bizantini e studenti greci nel rinascimento padovano, con un sopratitolo, se volete più accattivante, tra Oriente e Occidente. L'idea è proprio questa, di raccontare attraverso una serie di saggi che sono raccolti nel catalogo e una serie di schede, di cui poi vi dirò di più, di manoscritti, di raccontare la vicenda della riappropriazione del patrimonio letterario antico greco nel periodo dell'umanesimo e del rinascimento. Perché si parla di riscoperta, riappropriazione, rinascita agli studi greci nel periodo dell'umanesimo. Perché come gli ascoltatori probabilmente sapranno, il Medioevo occidentale aveva visto un progressivo estinguersi o ridursi della conoscenza del greco, sicché tutte quelle opere letterarie ma anche scientifiche e filosofiche che erano il frutto della civiltà antica non erano più accessibili in lingua originale. Si conoscevano solamente alcune traduzioni o una piccola parte di testi che veniva via via eventualmente affrontata da traduttori specializzati anche nel corso del Medioevo. Dunque, quando uomini come Petrarca, Boccaccio, i primi umanisti, si dedicarono alla lettura dei testi latini, scoprirono la grandezza della letteratura greca per via della mediazione degli autori classici latini, pensate a Cicerone, capirono che se si voleva conoscere il mondo antico bisognava conoscere anche il mondo greco e bisogna conoscerlo direttamente imparando la lingua in cui quei testi erano scritti, appunto il greco antico. Ci provò Petrarca, ci provò Boccaccio, con risultati abbastanza insoddisfacenti, come loro stesso ammisero. Solo alla fine del Trecento ci fu la possibilità di avere un maestro all'altezza delle aspettative degli umanisti italiani. Fu un maestro bizantino che si chiamava Manuele Crisolora, il quale fu invitato a Firenze nel 1397, vi rimase per tre anni e ebbe una serie di allievi che effettivamente riuscirono a cominciare a padroneggiare la lingua antica, a leggere, a tradurre testi greci e via via a perfezionarsi. È l'inizio di una fase nuova, un nuovo greco, che prosegue poi ininterrotta per un lungo periodo di tempo. È l'inizio della appunto riscoperta del greco in Occidente. Per imparare una lingua, come sappiamo, ci vogliono dei libri, ma ci vogliono soprattutto dei maestri. È difficile imparare una lingua a partire solo da una grammatica. E dunque gli umanisti italiani cercarono dei maestri. E dove li cercarono? Li cercarono e li trovarono nel mondo bizantino, cioè in quella metà orientale dell'impero romano, in cui l'impero era proseguito ininterrottamente dall'antichità per tutto il Medioevo. Appunto il millennio bizantino, cosiddetto, quei mille anni che noi contiamo grosso modo dalla rifondazione di Costantinopoli, all'opera dell'imperatore Costantino nel IV secolo, fino alla caduta della città in mano ai turchi ottomani nel 1453. Ebbene, in questo millennio bizantino la tradizione greca antica era stata, a differenza, coltivata intensamente. I testi greci si erano letti, copiati, commentati, studiati, anche se il mondo bizantino era un mondo cristiano, era una civiltà cristiana, aveva coltivato questo ambito della letteratura, della scienza, della medicina, della filosofia, bizantina, in cui i greci antichi erano stati eccessi. E dunque questa eccellenza era stata riconosciuta già nella tarda antichità e la scuola bizantina, i dotti bizantini, avevano continuato a cimentarsi con questi testi, mantenendo viva questa eredità, non solo conservandola, ma anche reinterpretandola, utilizzandola. E dunque, quando gli umanisti italiani ebbero bisogno di maestri, li andarono a cercare nell'impero bizantino, in particolare nella sua capitale Costantinopoli, dove si erano concentrati principalmente gli studi, le scuole e i dotti che di quella lingua e di quella letteratura avevano continuato a fare uso. Questo è l'inizio di un fenomeno, appunto quello dell'umanesimo greco, che fu una parte dell'umanesimo occidentale, forse una parte minoritaria, perché tutto sommato gli umanisti che impararono il greco furono sempre una minoranza rispetto all'insieme dei dotti occidentali che si dedicarono agli studi, però una minoranza significativa. Questo fenomeno permise, via via, di recuperare non solo i grandi autori della letteratura, pensate ad Omero, nessuno aveva letto Omero nel Medioevo Occidentale, o i tragici, gli storici, gli oratori, tutti quei grandi autori della letteratura greca che ancora oggi si studiano a scuola, ma anche i filosofi Platone e Aristotele, che pure si leggevano in traduzione, ma ora si cominciano a leggere in lingua originale, in greco, e con nuovi commenti, non più attraverso la mediazione dei commentatori arabi, ma attraverso la mediazione dei commentatori bizantini. E poi le scienze, le scienze che erano importantissime nel mondo ellenistico romano e che i bizantini avevano continuato anche in questo caso a coltivare, quindi la medicina, la matematica, l'astronomia, tutto questo enorme patrimonio della letteratura e della scienza antica fu riattualizzato, fu riletto e costitui il patrimonio, il bagaglio che progressivamente si andò accumulando e che l'Occidente seppe interpretare in maniera nuova. Di questo diremo poi qualcosa tra un minuto. Ora, questo è il quadro generale. Il nostro libro, il nostro catalogo, la nostra mostra, si concentrano su un momento particolare di questa storia, che è l'umanesimo padovano. Perché padovano? Perché c'è naturalmente un'occasione specifica legata, come forse dovremmo ricordare, al fatto che nel 1222 fu creata, nacque l'Università di Padova. E quindi quest'anno, nel 2022, si festeggiano gli 800 anni dalla nascita della nostra Università. E dunque, nell'ambito di questi festeggiamenti, è sembrato opportuno dare spazio anche a un aspetto, a una parte di questa storia dell'Università che è nota, ma non così nota come potrebbe. E dunque abbiamo cercato di concentrare la nostra attenzione proprio sulla nascita degli studi greci nella Padova del 400. Studi greci che nascono inizialmente al di fuori dell'Università e nascono appunto nell'ambiente degli umanisti. Uno dei più importanti umanisti che si trasferisce a Padova è il fiorentino Pallastrozzi, allievo di quel manuale Crisolora che vi citavo poco fa. Ed è con lui che abbiamo a Padova alcuni greci, bizantini, che lavorano insieme con lui, in particolare un personaggio di fama che si chiama Giovanni Argiropulo, di cui poi vi dirò qualcos'altro. Quindi l'umanesimo padovano greco nasce e si sviluppa inizialmente al di fuori delle aule universitarie, ma già nella seconda metà del 400 trova uno spazio anche all'interno dei corsi universitari. La prima cattedra di letteratura greca all'Università di Padova risale al 1463 e la tiene un dotto bizantino, Demetrio Chalkokonvilis, alla greca, o Calcondila, pronunciato nella versione italiana del nome, Demetrio Calcondila, che rimane a Padova per 12 anni. Dopodiché abbandona il suo posto perché a Firenze riesce ad ottenere un salario migliore e quindi lascia l'università al suo successore che solo da pochissimi anni si è scoperto, come si chiama, di cui si è scoperto da pochissimo il nome. Prima non lo sapevamo, in realtà è un greco anche egli che si chiama Homatas, non molto noto ma abbastanza, come dire, abbiamo potuto ricostruire in parte la sua carriera grazie agli studi di due colleghi che hanno analizzato in particolare la sua produzione manoscritta per chi lo riguarda. Da allora la traduzione di studi, la tradizione di studi padovana relativa al greco non si interrompe più, abbiamo sempre degli insegnamenti di greco ma soprattutto il greco entra nelle aule universitarie come materia, come posso dirvi, strumentale alla lettura e all'analisi di quei testi che invece erano fondamentali per il curriculum universitario dei filosofi e dei medici, quindi nella lettura di Aristotele e nella lettura dei testi scientifici, pensate a Galeno in particolare ma anche a molti altri autori. E dunque un po' alla volta anche nelle aule universitarie si svecchia il programma, si comincia a leggere in lingua originale Aristotele, come vi dicevo un attimo fa, si scrosta delle vecchie interpretazioni per leggerlo in maniera nuova, fresca, sulla base di una conoscenza diretta del testo e dei commenti bizantini o tardoantichi e bizantini che a quell'autore ad Aristotele sono stati dedicati in larghissima misura che il Medioevo occidentale aveva fino ad allora ignorato. Si arriva alla fine del Quattrocento con un altro straordinario fenomeno che è la pubblicazione a stampa delle opere complete di Aristotele tra il 1495 e il 1498 nella casa editrice, la potremmo chiamare così più che stamperia, di Aldo Manuzio a Venezia, che un po' come dire conclude questo percorso di acquisizione progressiva dell'Aristotele greco che arriva a un'edizione a stampa e quindi benché cara, pur sempre costosa, accessibile a un maggior numero di persone rispetto alla versione manoscritta dei testi di Aristotele. Quindi Padova e Venezia, questo è un altro punto che volevo sottolineare. Quindi noi ci siamo concentrati nella mostra e nel catalogo sulle testimonianze relative a Padova, ma è impossibile parlare di Padova nel periodo dell'umanesimo senza parlare di Venezia, perché Venezia è quella città che costituiva l'accesso privilegiato tra, diciamo, per tutti coloro che venivano dall'Oriente, da Costantinopoli, ma non solo, verso l'Italia. Aveva dei legami con il mondo bizantino, come plurisecolari, commerciali, ma anche, come si sa, dai legami commerciali, cioè come dire, dalle vie commerciali passano anche tante altre cose, quindi anche culturali, e a Venezia in particolare via via affluirono dotti o in generale greci dai diversi territori dell'Oriente bizantino prima della caduta nel 1453 di Costantinopoli, ma soprattutto è in misura maggiore dopo la caduta di Costantinopoli. Questo è un fatto da sottolineare. I dotti bizantini che arrivano in Italia nella prima metà del Quattrocento non sono esuli, sono personaggi chiamati in Italia per fare un mestiere che era richiesto appunto quello di maestri o professori e anche di copisti e traduttori. Dopo il 1453 invece c'è una situazione diversa per cui alcuni, non moltissimi, c'è un certo numero di dotti bizantini, lascia i territori greci e Costantinopoli in particolare per trasferirsi in Italia alla ricerca di una vita migliore. La comunità greca di Venezia si ampia di molto e il legame tra Venezia e Padova diventa sempre più stretto. Sono spesso gli stessi uomini che lavorano ora in una città, ora nell'altra e si spostano a seconda delle esigenze. Notiamo anche che dal 1405 Padova è conquistata dalla Venezia, dalla Repubblica di Venezia, entra a far parte del dominio veneziano e l'Università di Padova è l'unica università di tutta la Repubblica di Venezia e rimane l'unica università fino alla caduta della Repubblica nel 1797. Questo fa sì che Padova diventi l'università di riferimento per tutti gli studenti dei territori grecofoni del Levante Veneziano che comprendeva, come sappiamo, in primo luogo tutta l'isola di Creta, ma anche molte altre isole dell'Egeo, alcuni territori della terraferma greca, le isole Ionie, quindi luoghi in cui la popolazione era prevalentemente di lingua greca e da lì provengono moltissimi studenti che vengono a Padova come università di riferimento. Anzi, il governo veneziano obbliga i suoi sudditi a iscriversi all'università a Padova e non in altre università italiane. Altre università nei territori della Repubblica non ce n'è. E dunque, questo è un altro capitolo della nostra storia che abbiamo messo insieme con quello di cui vi parlavo poco fa, cioè l'afflusso di studenti all'Università di Padova, di studenti greci. Questa è una storia che in genere non è abbinata con la vicenda dell'umanesimo di cui vi dicevo, ma è altrettanto interessante e presenta delle intersezioni piuttosto curiose. Come dicevo, gli studenti greci vengono a Padova, naturalmente devono sapere il latino per seguire i corsi, perché i corsi universitari si tengono in latino e vengono soprattutto, non per dedicarsi ai studi di letteratura, ma per prepararsi nelle professioni più importanti, cioè nel diritto e nella medicina, per poi ritornare nelle loro sedi e svolgere o la professione di medico, oppure entrare nell'amministrazione veneziana, ma non solo, perché ci sono anche studenti che, anzi, il primo gruppo di studenti che proviene dall'Oriente è costituito dai ciprioti. Prima di tutto, tra la fine del Trecento e il primo Quattrocento, la prima metà del Quattrocento, gli studenti del Mediterraneo orientale che vengono a Padova sono soprattutto ciprioti. Nell'epoca successiva del Cinquecento sono soprattutto cretesi e, in seguito ancora, sono soprattutto provenienti dalle isole Ionie. Ma ci sono anche studenti che provengono da territori ottomani, sottoposti agli ottomani, e ci sono studenti che provengono da altre zone della Grecia continentale, da altre isole, eccetera. Tutto questo è una storia che si ricostruisce molto bene a Padova, in particolare grazie agli archivi dell'università che conservano la registrazione degli esami di laurea di moltissimi studenti, decine o centinaia di migliaia di studenti per l'epoca di cui stiamo parlando, e tra questi anche di moltissimi greci. Nella mostra e nel catalogo due sezioni sono dedicate proprio agli studenti che dall'Oriente provenivano a Padova e costituivano quella che si chiamò Nazio Ultramarina, cioè un gruppo di studenti, gli studenti stranieri si organizzavano in Naziones, i greci, ortodossi e anche altri che venivano annessi per varie ragioni si organizzarono in una nazione che si chiamava appunto Nazio Oltremarina, di cui ci sono conservati gli statuti e si conserva un bellissimo libro di stemmi, miniato, in cui sono appunto riprodotti tutti gli stemmi dei rettori studenti delle università, perché appunto il rettore nella storia dell'università era prima di tutto uno studente eletto, non come oggi un professore eletto dai suoi colleghi, ma uno studente eletto dagli studenti stessi. E quindi nella mostra è esposto questo bellissimo manoscritto sei settecentesco con tutti gli stemmi che continua una tradizione di apporre degli stemmi o dipinti o in pietra nel cortile dell'università antica di Padova, del cortile del Boppi, dove se andate trovate tremila stemmi tra dipinti e in pietra dei rettori studenteschi di tutta la storia dell'università. Quindi questa storia degli studenti è raccontata. Vi dicevo che c'è un'intersozione curiosa tra studenti e dotti e si tratta di un personaggio in particolare che è un po' il centro della nostra ricostruzione che risponde al nome di Giovanni Argiropulo. Giovanni Argiropulo è un personaggio affascinante perché sappiamo che venne in Italia scriversi all'università di Padova e studiare nel collegio artista. Venne nel 1441 e vi rimase per tre anni. In quei tre anni diventò anche rettore degli studenti e visse in... o meglio collaborò con quell'esilo fiorentino che vi dicevo prima, di cui vi parlavo prima, Pallastrozzi. Quindi stava con Pall, copiava per lui i manoscritti, contemporaneamente seguiva i corsi di università e ancora contemporaneamente perfezionava il suo latino e contemporaneamente insegnava il greco a un personaggio padovano ben noto che si chiama Pietro da Montagnana, un sacerdote di cui abbiamo conservata una ricca biblioteca. Quindi c'è, si può in questo caso proprio nel breve torno di anni, questi tre anni, vedere come un greco che non era scappato da Costantinopoli, Argiropulo era già un affermato professore nella capitale. Ritenne di venire a Padova, di fare lo studente, di procurarsi una laurea italiana, diciamo così, ed è l'occasione appunto di interagire con uno dei maggiori esponenti dell'umanesimo fiorentino, Pallastrozzi, che era un gran signore, naturalmente aveva bisogno di insegnare, ma anzi prendeva al suo servizio una serie di persone, per quanto esule, e con questo Pietro da Montagnana di cui abbiamo dei manoscritti e nella vostra e nel catalogo avete la riproduzione di un codice in cui si vede come Argiropulo abbia copiato una grammatica di Gennadio Scolarios, il primo patriarca di Costantinopoli dopo la caduta, abbia copiato in greco il testo, mentre le note a margine e la traduzione interlineare sono di Pietro da Montagnana. Quindi abbiamo proprio una testimonianza tangibile della collaborazione tra i due studiosi. Abbiamo anche una traduzione completa della grammatica che si conserva oggi la Biblioteca Marciana di Venezia, traduzione latina di Pietro. Quindi nella nostra mostra abbiamo cercato di raccogliere codici, principalmente manoscritti, che ci parlassero di questi rapporti, di questi personaggi, di queste storie. Una sezione cospicua è costituita da grammatiche, perché come dicevamo prima, per imparare una lingua la cosa più importante è un maestro, ma servono anche dei libri, e quindi di grammatiche. Le grammatiche erano state elaborate nel millennio bizantino, perché anche per i bizantini il greco classico aveva bisogno di essere sistematizzato per l'apprendimento, perché era una lingua ormai lontana dal parlato. E dunque avevano creato una serie di grammatiche, la più importante delle quali è dovuta a Manuele Moscopulo, o Moscopulos, e ce n'è un esemplare nel catalogo, con annotazioni di diverse mani, tra cui una probabilmente abbiamo potuto identificare nella mano di un monaco Ilarione, che viveva in un convento di Verona, e dunque è un esemplare copiato in Oriente all'inizio del Quattrocento, ma poi utilizzato in Occidente. E oltre a Moscopulo ci sono tante altre grammatiche allestite per lo più dai maestri bizantini, che ebbero a che fare con allievi occidentali. La più famosa, la più popolare, fu dovuta a Manuele Crisolora, che semplificò notevolmente la grammatica di Moscopulo, che era troppo complicata per gli allievi italiani, perché era ricchissima, prevedeva decine e decine di possibilità, quindi una semplificazione drastica più accessibile agli allievi italiani, appunto non greci di lingua fin dalla nascita. Quindi la sezione delle grammatiche è ben documentata, ci sono diversi tipi di grammatiche, ci sono grammatiche annotate, eccetera. E poi c'è una sezione di codici bizantini, di cui avrei forse dovuto parlarvi prima. A Padova ci sono tre codici bizantini importanti, uno dei quali risale al X secolo, Marco e Basilio di Cesarea, un codice non molto di lusso, ma un bel manoscritto su pergamena. Un altro del XIV secolo, con dei Vangeli, quattro Vangeli, che fu poi, che fu copiato probabilmente a Costantinopoli e poi portato a Creta, dove fu restaurato, integrato, e da lì giunse in Occidente passando per Feltre, un percorso abbastanza inusuale. E infine c'è il codice più bello e più famoso, che è un esemplare del De Materia Medica di Dioscoride, un codice, un erbario, una enciclopedia farmacologica, con magnifiche miniature, ogni pianta è riprodotta in bellissimi disegni, che risalgono a un modello del VI secolo, in gran parte conservato. Un caso straordinario, il modello è il codice, un codice che si conserva a Vienna del VI secolo, molto famoso, ricchissimo anche quello di immagini, che fu copiato nel XIV secolo, a Costantinopoli. Siccome mancavano alcune immagini, altre furono prese da un altro codice, anch'esso conservato nel X secolo, oggi è in York, e il testo fu copiato da un terzo codice. Quindi questo codice padovano raccoglie insieme miniature e testo di diversa provenienza. È il Dioscoride miniato da cui è tratta l'immagine di copertina del catalogo. Questi codici non si sa come arrivarono a Padova e sono sostanzialmente questi i codici pizzantini che si conservano in città. Una cosa che non ho detto ma che vorrei sottolineare è che tutti gli esemplari che abbiamo esposto nella mostra sono conservati in biblioteche di Padova. Quindi abbiamo fatto questo tentativo di recuperare da diverse biblioteche che non hanno grandi fondi di manoscritti greci. Ciascuna ne conserva alcuni, magari una decina, ma non moltissimi, e qui abbiamo cercato di recuperare da queste biblioteche tutti i codici più interessanti per dare insieme un'impressione, diciamo, di quello che ancora si conserva a Padova e con quei materiali costruire la storia che stavo raccontando. In realtà Padova, questo va detto, nel 4-500 fu ricchissima di collezioni di manoscritti greci, proprio perché era un centro di cultura importante per l'università e per i dotti che vi risiedevano, ci furono tantissime collezioni private ed ecclesiastiche, ma praticamente nessuna di queste sopravvisse alle dispersioni che avvennero nel corso del 6-7-800. E quindi troviamo, come dire, traccia del passaggio, del fatto che molti manoscritti si conservavano a Padova in quel periodo e furono utilizzati da diversi dotti o fecero parte di collezioni importanti, ma poi vennero vendute, vennero rubate, vennero disperse in vario modo. Quindi oggi in realtà Padova ha molto meno manoscritti greci di quelli che potrebbe avere, e molto meno manoscritti greci di Venezia, dove invece appunto la Biblioteca Marciana, come sappiamo, conserva una delle collezioni più importanti del mondo grazie all'ascito del cardinale Bessarione, ma anche grazie al fatto che alcuni dei fondi, degli enti soppressi in età napoleonica confluirono poi alla Marciana anche da Padova. Quindi abbiamo, come dire, anche questa storia, una storia di assenze che si possono ben documentare e che sono documentate nel saggio di Ciro Giacomelli, che con me ha curato il catalogo della mostra. Molto interessante tutto. Si potrebbe parlarne molto molto più a lungo di quello che ci consentono queste video presentazioni, quindi secondo me la cosa che io posso fare, più importante di tutto, è ricordare il titolo, che è Tra Oriente e Occidente. Dotti bizantini e studenti greci nel rinascimento padovano, a cura di Niccolò Zorzi, che è stato nostro ospite, e di Ciro Giacomelli, pubblicato da Padova University Press da pochissimo, vi ricordo che volendo è scaricabile gratuitamente in formato pds dal sito di Padova University Press. Io la ringrazio tantissimo perché comunque è un argomento che per voi studiosi probabilmente è noto, ma per il grande pubblico credo non lo sia così tanto e quindi potrebbe essere un invito a venire a Padova a visitare le biblioteche, a visitare l'università, a scoprire questo immesso patrimonio, soprattutto nell'anno dell'anniversario della Fondazione dell'Università di Padova. Quindi grazie davvero tantissimo e spero di avere altre occasioni per collaborare con lei. Grazie. Grazie a lei di questa opportunità e senz'altro alla prossima occasione. Io ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove potete trovare tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi e vi invito a seguirci anche sul nostro canale YouTube. Grazie ancora a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti i nostri video